Grazie a tutti, benvenuti a Savona, Italia. Sono Tiziana Borreani. Un'altra volta andavo a camminando sul mare, il sole era alto nel cielo. E ho cercato un'idea di capire l'altro partecipante. Che è questo? È un' vecchia ricetta con un po' di Ginevra. Non posso farlo tutto, ma sono stabile come un mule. Andiamo a mixare i miei fantastici dritti. Beh, ho creato qualcosa di speciale per voi. Mi piace mettere in ricotta le fragranze del situs e dell'orange. Il sherbet aggiunge la dolce e abbastanza la spiritualizzazione del buon appetito. E' un fantastico e sofisticato prodotto che è il nostro corpo di me. and now the taste of flour that goes with the oranges and Tiziana shaking stop get a touch of spicy with an Italian aperitif and quickly sear a boost of extra aromas essential oils and a special garnish for you enjoy your dream and remember the stubbornness of the pioneers like Lucas Walsh, Cristoforo Colombo and me I'll see you in the next video